Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni scrive sul giornale, non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, è giornalista anche del giornale, giornale che trovate il giornale.it. Ha fatto un lunghissimo interessante articolo parlando di tutte le sue ricette per l'Italia e lei dice una cosa che io ho notato anche in giro per il mondo, non è solo in Italia. Dice se lo Stato sostiene che sei un evasore, non è lui che deve provarlo, ma tu che devi provare che non è vero. Questo è successo anche a me. Qui mi è arrivata fuori la guardia di finanza dicendomi lei non ha dichiarato le tasse. Ho detto ma realmente le ho pagate, sono dovuto andare in centro all'ufficio competente e dire guardi io ho dichiarato e ho anche pagato. Ah è stato un nostro errore, però sono dovuto andare io a giustificarmi perché se no mi sarebbe arrivata una multa di, beh non era di molto però, insomma, un 30 euro di multa. Ecco, ho dovuto io andare a provare. Quando io l'avevo fatto e nel sistema informatico c'era scritto dichiarazione pagata, dichiarazione fatta, dichiarazione pagata. Sono dovuto andare io a dirgli no, guarda che l'ho fatta, ho fatto anche stampato il foglio, ma lì ce l'hai sul computer. Mi ha detto, beh, visto che lei è venuto così veloce a dirci questo, noi siamo tanto buoni e le cancelliamo la multa. Ma come? Buoni? Nel senso, io ho fatto tutto quello che dovevo fare e voi siete buoni. Vabbè, loro sono tanto buoni. Così questo succede, cara Giorgia Meloni, non solo in Italia che devi dimostrare di non essere un evasore. Cioè, lo Stato ti dice, sei un evasore, tu devi dimostrare che non lo sei. Questo succede anche in altre parti del mondo. E Giorgia Meloni dice, questa non è lotta all'evasione. Questo è uno Stato un po' bullo, debole con i forti e forte con i deboli. La lotta all'evasione fiscale si fa con il contrasto, contrastando l'evasione delle banche che trasferiscono utili e risorse nei paradisi fiscali. Le sendi fintamente spostate all'estero, le finte cooperative care alla sinistra, le fro di carosello sull'iva delle grandi aziende che distolgono miliardi dall'erario. E contrastando le attività apri e chiudi di alcuni tipi di operatori. Attività che aprono come funghi, non pagano un euro di tasse e poi cambiano ragione sociale prima che lo Stato si faccia vivo. Questo l'ho trovato anche qui, anche qui. C'era uno che mi vendeva, che mi ha venduto, sapete come quando si fa il cappotto a una casa, si mette uno spessore in più per farla termica. Questo qui, dopo sei mesi, ha chiuso l'azienda, ne ha aperta un'altra, un'altra ragione sociale, perché chissà cosa aveva combinato con quella di prima, chiude tutto e riapre e ricomincia da capo con la stessa attitudine. Ecco, anche questo non è solo in Italia, ma è anche, l'ho visto anche qua. Vabbè, insomma, dice così Giorgia Meloni. Così le imprese italiane chiudono e poi c'è chi continua a chiudere e riaprire, continua a chiudere e riaprire. La soluzione ce l'abbiamo proposta, una cauzione per le imprese non italiane come anticipo sulle tasse da pagare. Proposta, ovviamente, sistematicamente bocciata dal Parlamento. La proposta di Giorgia Meloni era Tu sei un'azienda straniera, vuoi aprire in Italia, mi dai 30.000 euro d'anticipo sulle tasse, nel senso che poi, quando devi pagare le tasse, io scalo da quei 30.000 euro. Ma probabilmente non si può fare una distinzione tra aziende italiane ed estere. Invece, fuori dall'Italia si fa. Addirittura all'opposto, le aziende straniere magari non gli fanno pagare proprio le tasse per attirarle e portare lavoro. Qui invece Meloni dice No, l'azienda straniera, anzi, gli diciamo dammi un acconto, così da quello poi io comincio a trattenermi le tasse. Così come la nostra proposta dice di adottare in Italia lo stesso limite al denaro contante che c'è in Germania e in gran parte d'Europa, dove, guarda un po', non c'è alcun limite. Che credibilità ha sostenere che per combattere l'evasione bisogna abolire il contante quando posso andare in Austria o in Germania e spendere tutti i soldi contanti che voglio? La verità è che la crociata a favore della moneta elettronica serve solo per far l'ennesimo regalo al circuito bancario e finanziario che guadagna su ogni transazione di denaro elettronico, ma non sul contante, oltre che per controllare i cittadini. Proprio così dice Abbiamo sentito i parlamentari grillini parlare di spese immorali e gli esponenti della sinistra dire apertamente dobbiamo sapere chi spende e per cosa. Dobbiamo sapere chi spende e per cosa. Io penso invece che un cittadino libero abbia il diritto di spendere i propri soldi come meglio crede, senza dare spiegazioni a uno Stato guardone che ti spia dalla serratura. Ecco, diciamo che quando si incentiva l'utilizzo della moneta elettronica, sì, tutto passa alla luce del sole, quindi diventa sempre più difficile evadere le tasse, però avvantaggia anche le banche. Perché le banche vi danno la carta di credito, il Bancomat? Perché poi si pagano le commissioni. Magari voi non pagate le commissioni, ma le paga l'esercente che quando accetta la carta di credito deve pagare le commissioni alla banca. Ci sono tante commissioni dall'affitto del POS, dal mensile, ce ne sono tante, tante, tante. Quindi, sì, guadagnano le banche da una parte, però dobbiamo dire anche che, sì, scombatte anche l'evasione fiscale, ma non è risolutiva, non è che pagando sempre con il Bancomat eludi l'evasione fiscale, perché uno può prelevare un poco alla volta e puoi pagare l'idraulico che ti ha fatto il lavoro in casa. Ho fatto un esempio così a caso, il primo che mi è venuto in mente. E così Giorgio Amironi poi dice, ci vuole meno Stato nella sfera privata delle persone e più Stato quando si esce di casa, perché solo le istituzioni possono garantire quella sicurezza che è una precondizione della libertà. Perché lo Stato stesso, che pretende di controllare ogni nostra spesa e ogni nostra azione, non controlla le piazze e le città dove ci sono criminalità. Beh, intere parti d'Italia sono zone franco in mano a questo tipo di persone, dice Giorgio Ameloni. Ecco, è lì che la forza dello Stato deve farsi sentire. Anche qui sono d'accordo. Piuttosto che rincorrere quello sulla spiaggia, ve lo ricordate qualche mese fa? Insomma, con i droni, gli elicotteri sulla spiaggia, perché c'era qualcuno sugli scogli che prendeva il sole. Insomma, tutta quella forza lì, utilizzatela per qualcosa che serve veramente, come dice Giorgio Ameloni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra poco per un altro video, tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.